Andrea ha voluto regalare a Rosalinda nel giorno del suo compleanno un bel viaggio romantico in una delle città più affascinanti del nostro pianeta, Parigi. Attraverso una storia Instagram Andrea ha documentato il viaggio aereo, mannaggia a me e quando prendo il posto centrale. Questo perché l'ex Gieffino si è ritrovata al centro tra una signora e la sua fidanzata Rosalinda. Successivamente l'ex Gieffino ha ironizzato scrivendo, la signora di fianco ci ha appena detto che l'aereo le sembra vecchio, ottimo inizio. I fan attraverso il loro calore hanno accompagnato il viaggio degli Zengamo. Rosalinda e Andrea nella bella Parigi potrebbero fare il gran passo, ovviamente quello che potrebbe indurli a sposarsi. Ancora oggi nella casa di Cinecittà sono presenti le foto del loro primo bacio. Andrea e Rosalinda resteranno per sempre due protagonisti del grande fratello VIP. A noi di Gossip Magazine non ci resta che tenervi aggiornati in tempo reale sul mondo del gossip con nuove news tempestive. Grazie. 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 Grazie.